Raga voi ci avete salti e retail? Ma siamo qua, siamo qua. Ah, siete tutti qua, ok. Voi ci avete salti e retail? Spostatevi subito, ragazzi. Sì, sì. E qui è l'unico posto in cui so'lterrare per ti. Ragazzi, noi andiamo verso Pleasant e voi andate verso retail poi. Subito, come liberate la zona? Ok, ok. No, mi sono buttato perché sono buttato loro. Tranquillo. Mi distrago sempre questa cosa. Ah, tranquillo. Ah, io tanto faccio sempre il land quello perfetto ora. Lo so. Sono preciso. Lo so, lo so. No, no, sono preciso proprio, mi sono messo proprio... Ok, c'è uno che vuole atterrare con me. Ok, io non c'è già te a terra molto meglio. Potrei morirci. Te? Sì. Venti qua. Sotto sotto di me c'è uno. Da me c'è uno che tu uscita qua, non paghi una pistola. Con questo arrivo, eh. Merda, ma c'è uno. Ok. Non l'ho sentito. Vieni che c'ho le pozzette. Senti, metto un secondo a cecchinare. Toccato uno all'edificio a sud, dobbiamo andare all'edificio a sud. Vieni, 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 vieni che ti do i materiali. Cioè, i materiali, ti do le pozzette. Vuoi vampa, vuoi vampa? No, 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 no. C'è gente sotto di noi, eh. So. Puscio questo, però. Così mi prendo la kill e i suoi loot. Non c'avevo un cazzo. A me questo qui è senza arma e sta scappando come un folle. Dove? È senza arma nell'edificio dove siamo atterrati. Sta scappando come un folle. Ah, ce l'è tuo, ok. Però è morto. Perfetto, loot al volle e puscio, eh. Dove? No, no, so io che stavo finendo quello non ho fatto. Ok, mi sono spaventato. Ho uno solo per te. Ehi, grazie, farebbe comodo. Ce l'ho forza al Tacos uno. Io so con te. Non mi vado a dare spettato, sicuramente. Non mi sembra il caso. L'edificio quello... C'è uno, c'è uno, c'è uno, Tacos. Dove? Tacos, 10 Tacos. Ah, mi sono. Ho messo 10-4. Lo vedo. No, te, 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 te. Eh, merda. Tirate completamente a casa. Vieni... Eh, merda. Hai un scendio per me, eh? No. Vabbè. Prendo io e lancia cazzate. Ho scelto lo loot sotto. Ah, ma questo è arrivato ora, non è... Era appena arrivato. Vado a prendere il loot veloce, eh. E sopra? Ho una pozzata 50, tieni. No, no, so a posto. Lascia va. Ce l'hai dietro? Fatto morto. Lì c'è stato delle pozzette. Sì, 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 me la uso, me la uso. Merda, ho lasciato le bende. Io ho lasciato una mitretta, Viola. Dove? Entra dentro. Vieni a me. Da te prendo le cure. Ok, la vengo a prendere subito. E qui c'è l'SG, c'è il G36. Tieni il lancia cazzi, allora. Anzi, no, 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 faccio una cosa, scusami. Io so posto le armie, a me non serve niente. Ok, io sono posto pure io, ora. Servono solo cazzoni se poi li hai. Continuiamo a muoverci. Vai, 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 lì ci sono delle pozzette di fronte a te. Non lo stacchi, io vengo qua. Andiamo verso Blazant. Ah, vedo le cose rotte. Comunque siamo partiti velocissimi. Vieni verso il lago, poi vai, ti vai verso Blazant. E' un ottimo lago, il lago c'è sempre. Vieni qua che secondo me c'è ancora il team, eh. L'ho visto, l'ho visto a casa di ricchi. Ok. Saltella. Lo vedo, lo vedo sotto, vero? Sì. Due. Mettendo quella sinistra. L'altro, l'altro lo vedo. No, no, c'è uno più, una casa di ricchi ancora. Sì, sì, sto sparando ancora la tua sinistra. Mi riesce a coprire da quello? Ok, morto uno, manca quello lì. Non aspetta, ma sono due team. Devo ricaricare le armi. L'ho ferito un pochino di volta, ok? Stanno ancora sparando qui da me. C'è il lanciarazzi, prenditelo, prenditelo, che facciamo il massacro. Vampa blu. Ah, l'hai ucciso? Sì, sì. No, ma tu hai ucciso un altro team, ti ho detto. No, 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 ma non l'ho ucciso l'ultimo. Eh, non ti... Lascia fa, ti stai vicino ad un altro team. Eh, lo so, li sto cercando. Ma lì da te c'è un altro team o no? Sì, l'ho uccisi. Eh, allora basta, fatto. Sì, ma che cazzo ne sapevo? Io ne avevo ancora uno close, pensavate che è successo lui. No, no, no. Qua ho visto esplosioni, però, non so dove sono andati. Il lanciarazzi, hai detto, la casa dei ricchi. Sì, da quello della casa dei ricchi. Cazzo troppo per il lanciarazzi. Il sniper. No, mi sa che non c'è più nessuno, bro. Vabbè, non ho rocket, però. Quale modo li posso dare? Non c'è nessuno, brother. Andiamo a essere il lago? Go, go. Ho visto dei proiettili, però. Come abbiamo uno, c'è, due team, i due più due splittati così, che si stavano per incontrare. Ma secondo me erano gli stessi, non so. Perché io non ho finito... Sì, hai finito quelli noccati? Sì. Sì. Ah, ok. Sì, apposta per questo, infatti dicevo, non... È che io ho visto che mi è arrivata la kill, ho detto, ok, quindi erano un team di due che abbiamo finito, e poi gli erano gli altri due davanti. Io ho pensato già c'è nata così. Io mi aspettavo magari che ce ne fossero addirittura altri. No, no, ma erano i compagni palesemente, erano troppo vicini. Ah, va? Oh, dimmi. Tieni, tieni, scusa, mi stavo leggendo la chat, sorry. Eccoli qua. Sì, sì, a me non mi leggi, però. No, è che... Ah, guarda in mezzo al lago. Jump up. Erano più le sniper. C'è un team in mezzo al lago, ragazzi. Però si sono buildati tipo il mondo. Come dire? Ah, oddio, 100 materiali, eh. No, no, io ce l'ho ai materiali, ma non ci conviene. Lo vedo che sta farmando materiali sotto, però... Vediamo se troviamo altri, quelli li teniamo per ultimi. Se non fosse finita così da fatti prima, ti rocket booster è? Ma... Oh, ma prima perché mi ha preso uno di un altro team. Lo so, lo so, ma... Senti, se voi ci possiamo andare. Cioè, sono dei bot, secondo me, quelli, però non si stanno mai. C'ho i razzetti, io. Cioè, c'ho... Io gli spammo con le pallette. Ma io ho 250 de mazze. Forse è meglio lanciare a zi, mi dai colpi a me, così io gli spammo dentro, alla costruzione. No. Ti do i miei mazze. Hai sei rocket. Hai sei rocket. Ho 12, no. Vai. Guarda quello fermo, guarda quello che stai facendo le cose. Fatto, andiamo. Ha demolito questo. Eh, copriti, 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 copriti. Ho tirato, sto tirando palletta. Ce l'ho finito. Ho deciso quello a casa. Eccoli. Fatto. Bello, mate. Deboate. Comunque con tattica, saltando e correndo, ma fatto i 150, vabbè. Servono materiali, perché ne ho usati veramente troppi. Voglio i materiali non ho ancora raccolti, quindi vi so che... Io 380 ilegni, quindi prendi il resto da... Vai, vai. Attack viola? No. Attack viola. Andiamo. Abbiamo appena fatto tipo 3 o 4 team noi. Buono. Noi dovremmo tornare indietro verso Dilted. Vai, no. Tra zettino sempre pochi. Andiamo sopra verso Anarchy. Mi sparano da davanti. Eh, che cazzo di sfigo. Vuoi pozzetta? No, 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 però no, no. Anche dietro, anche da West. Power non mi piace la situazione. Dove? Non ci ha sparato nessuno, che dici? Sicuro? C'è le fabbriche? No. E io mi copro, eh. Questo non lo so male. Ti droppo da questa cosa, no. Sono due, però, lì. Cerco di aggirarli. Sto facendo la stessa cosa. Vai, te lo distrago, dai. Lascia fa. Sto facendo la stessa cosa. Sto facendo la stessa cosa. Bella. Bella, bella, minchia. L'abbiamo da butti. On jump. Sono ancora convinto di vedere qualcuno. Vedo uno lontanissimo a West, è veramente lontano. On jump, addio, eh. Guarda, un attimo, se uno solo ti ciro che il busto. Vaffanculo. Non andassare che siamo solo. No, qui ne morirei blu. No, 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 no. Ti c'è, qui ne è blu. E qui ne è blu. E qui ne è blu, per forza. Non vado a cercare, eh. Doverriamo Anarchy noi. Grande. Era un botto tale, era un botto tale, non potevo far fuori. Si è buttato giù della cascata, non sapeva come risalire. Corello. Senti, dobbiamo fare un jump ad per sbrigarci? Vai. Mi doffi una benda, 26. Eh, te troppo la metà. Vabbè, ma dattela dopo. Eh, allora vai. Vado? Ma così la passiva, no? Sì, sì, c'ho il cazzone. Li vedo, li vedo, li vedo a ovest, li vedo a ovest. Dentro Loot Lake. Dentro Loot Lake. E uno ce l'ho davanti, uno ce l'ho davanti. Aspetta, 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 faccio questo davanti prima. È un bot, sei movente. Fatto. Ok. Ma come dentro Loot Lake? Sì, 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 dentro il deposito, sto scendo ora a piedi. Ah, dentro le fabbriche. Lo vedi? Lo vedi che corre? Quello lì, è quello lì. Sì, io gli sparo. Andato via l'audio. A me non entra un colpo, eh. Ok. Ma era solo. Ce ne mancano sei. Dobbiamo sbrigarci a ucciderli. Cioè, veramente dovrebbero essere tutti i nostri. Oh, ragazzi, dobbiamo sbrigarci a ucciderli. Non devono fai darsi. Uno, che dici a sette. Siamo fa un bel lavoro. Io credo che tu non ce l'ho troppo, eh. Va, vai. Mi voglio bere i ciao. Abbiamo fatto un altro team, abbiamo fatto un altro team. Abbiamo fatto un altro team, abbiamo fatto un altro team. Ne mancano, regà, manco... Ok, è bella, manco gli ultimi due. Grandi. Quanto siamo? 19 più 23? 19, 41. Facciamo 43. E guardiamo il record. Italiano, però. 19 più 23, power fa 42. Ah, lo ha niente, lo facciamo cagare. L'ho detto una cazzata, infatti. Però vanno uccisi, eh. Doviamo uccendere. Forse ce l'abbiamo ucciso. Un team, c'è ridotto in diversi, si ammazzano da di loro. Ma li sto cercando, io. E niente, non ce l'abbiamo fatta. Io non sono capito... Cioè, lo stai dicendo con la voce talmente convinta. Cosa? Che non ce l'abbiamo fatta? 42. Eh, 42 più 2. Che vuol dire? Ah, siamo già a 42? Ah, quindi facciamo il record italiano. Ah, l'ho. Sì. Cioè, mi stai... Mi stai... Mi stai triggrando, power. Ah, l'abbiamo fatto. New... New... New record, bitch. New record, bitch. Aspetta, forse non sa contare. Eh, forse non sa contare. 44. E l'abbiamo fatto, raga. Easy. Let's get it! 44? Ho fatto il record italiano. Prova. Io pensavo a power mi stesse trollando. No, io non c'ho capito un cazzo. A un certo punto la mia madre madre che hanno da puntata. 12 e 8. Cioè, un tre volte 12 e poi 8. Minchia detto come non l'abbiamo fatto. E' un certo punto la mia madre che è 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 la